Vieni cosa beccano! Ma sta bene la circolazione Il bambino si va forte qua Grazie Medi ortiche Eccolo qua che era anche sul braccio quanto sono alte dire che c'è almeno il tronco sono riuscito a passarlo in sella c'è un trasferimento fino al cibo parte figa ovviamente non l'ho registrata che sono un pro ortiche prese tutte cazzo sarebbe da pulire ma passaggi brutti eh vedete che faccio una foto cazzo sarebbe da pulire Sì, mi sono fermato un attimo togliere la batteria la GoPro perché ovviamente si era impiantata ma così non è male ma come prima che era un po troppo stretto un po troppo aperto in parte lì mi cago un po ad osso passi sopra su robe che non vedi e vedi in parte che non c'è nulla quindi sopra 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 fatta Ma fatta di merda ma fatta